In questo tutorial vediamo degli esempi di scomposizioni di polinomi attraverso il raccoglimento parziale. In questi esercizi saranno presenti degli esponenti con un n generico dove n risulta essere un numero naturale. Partiamo da questo primo esempio. Come prima cosa fisso l'attenzione su x elevato alla n più 1 ed applicherò le proprietà delle potenze scrivendo x elevato alla 1, ossia x, per x elevato alla n. Poi più e ricopio x meno 2 alla seconda meno 2 per x alla n. Fisso ora l'attenzione sul primo e sull'ultimo termine. Posso mettere in evidenza x alla n, fattore comune, e quindi scrivo x alla n per ed apro una tonda. Questa quantità diviso x alla n, quello che resta risulta essere x. Poi ricopio questo segno meno 2x alla n diviso x alla n, quello che resta risulta essere 2. E chiudo la tonda. Poi più x meno 2 alla seconda. Osservo ora che questi due termini hanno un fattore comune, x meno 2. Devo calcolare il massimo comundivisore tra x meno 2 ed x meno 2 alla seconda. Risulta essere x meno 2 per ed apro una tonda. Questa quantità diviso x meno 2, quello che resta è x alla n più e chiudo la tonda. Vediamo questo secondo esempio e scomponiamo questo polinomio. Come prima cosa fisso l'attenzione su x elevato alla n più 1. Ricopio x più 1 alla seconda, più 2, ed ora x alla n più 1, applico le proprietà delle potenze, andando a separare questi due esponenti. x alla 1 ottengo x e poi x alla n. Quindi scrivo per x alla n, poi più 2x alla n. Ricopio x più 1 alla seconda, ed ora fisso l'attenzione su questo termine e su questo termine. Osservo che posso mettere in evidenza un 2, quindi scrivo più 2. Inoltre posso mettere in evidenza il fattore x alla n per ed apro una tonda. Questa quantità diviso 2x alla n, quello che resta risulta essere x, più 2x alla n diviso 2x alla n, quello che ottengo è 1 e chiudo la tonda. Osservo ora che questi due termini hanno un fattore in comune, x più 1. Vado a calcolare il massimo comune divisore tra x più 1 alla seconda ed x più 1. Risulta essere x più 1, per ed apro una tonda. x più 1 alla seconda diviso x più 1, quello che ottengo è x più 1. Questa quantità diviso x più 1, quello che ottengo risulta essere più 2x alla n e chiudo la tonda. Passiamo a questo terzo esempio e scomponiamo questo polinomio. Come prima cosa fisso la tensione su y alla 2n. Ricopio x alla n, y alla n, meno, y alla 2n. Fisso ora l'attenzione sul primo e sul secondo termine. Questi due termini hanno un fattore in comune, y alla n, che metto in evidenza. E quindi scrivo y alla n per, ed apro una tonda, questa quantità, diviso y alla n, quello che resta è x alla n, poi meno, ed ho copiato questo segno meno, y alla n alla seconda, diviso y alla n, quello che ottengo è y alla n, poi più, e fisso l'attenzione su questo terzo e quarto termine. Li riscrivo mettendo in evidenza un 1, e quindi ho 1 per, apro la tonda, x alla n, meno y alla n. Ovviamente questa scrittura non altera la scrittura iniziale x alla n, meno y alla n. Ora osservo che questi due termini hanno un fattore in comune, x alla n, meno y alla n. Posso mettere in evidenza attraverso un raccoglimento totale, poi per, ed apro una tonda. Questa quantità, diviso x alla n, meno y alla n, quello che resta risulta essere y alla n, più questa quantità, diviso x alla n, meno y alla n, quello che resta risulta essere 1. E chiudo la tonda. vediamo questo quarto esempio. Come prima cosa fisso l'attenzione su a elevato alla n, più 1, e separo questi due esponenti. a elevato alla 1 ottengo a, per a alla n, e quindi scrivo a alla n. Il resto lo vado a ricopiare. Ora fisso l'attenzione sul primo termine e sul secondo termine. Mi rendo conto che hanno il fattore a alla n in comune. E allora metto in evidenza a alla n, per, ed apro la tonda. Questa quantità, diviso a alla n, quello che resta risulta essere a, poi meno, ed ho copiato questo segno meno, a alla n, diviso a alla n, quello che ottengo è 1, e chiudo la tonda. Ora fisso l'attenzione sul terzo e sul quarto termine. Posso mettere in evidenza un meno 1, per, ed apro una tonda. Meno diviso meno e più, quindi non scrivo nulla, e poi scrivo a. Effettivamente meno 1 per a torna meno a. Poi più diviso meno, ottengo meno, e 1 diviso 1, ottengo 1, e chiudo la tonda. Osservo ora che questi due termini hanno il fattore a meno 1 in comune. Applico allora un raccoglimento totale, metto in evidenza a meno 1, per, ed apro la tonda. Questa quantità, diviso a meno 1, quello che resta risulta essere a alla n. Meno, ed ho copiato questo segno meno, questa quantità, diviso a meno 1, quello che resta risulta essere 1, e chiudo la tonda. Vediamo quest'ultimo esempio, e scomponiamo questo polinomio. Come prima cosa fisso la attenzione su a elevato alla n più 1, separando questi due esponenti. Ricopio il 2, a alla 1, e scrivo a, per a alla n, e scrivo a alla n. Poi il resto lo vado a ricopiare. Ora, fisso l'attenzione sul primo termine e sul secondo termine. Posso mettere in evidenza un 2, e inoltre posso mettere in evidenza il fattore a alla n. Poi per, ed apro una tonda. questa quantità, diviso 2a alla n, quello che resta risulta essere a. Poi più questa quantità, diviso 2a alla n, quello che resta risulta essere b. Chiudo la tonda. Poi più a più b, tutto quanto alla seconda. Osservo ora che questi due termini hanno un fattore in comune, a più b. Vado allora a determinare il massimo comune divisore tra a più b ed a più b alla seconda. Devo prendere il fattore di grado minore, ossia a più b. Poi per, ed apro una tonda. Questa quantità, diviso a più b, quello che resta risulta essere 2 per a alla n. Poi più a più b alla seconda. Diviso a più b, quello che ottengo è a più b e chiudo la tonda. E con questo termino il tutorial su esempi di scomposizioni di polinomi attraverso il raccoglimento totale dove alcuni attori hanno un esponente n con n naturale.